allora salve amici giallorussi vi mostrerò in questo video che la carta che questa qui non va bene non va bene perché il suono non è ottimo per cui per quanto ho telefonato al tecnico del suono se vogliamo dire passo a passo mi ha mostrato cioè mi ha detto come dovevo mettere i cavi ma non funziona assolutamente questo non va bene allora mi ha proposto di cambiare questo l'amplificatore per cui potrò mettere dei cavi che sono questi qua per il suono l'amplificatore non è abbastanza forte quindi è una cosa che dovrò cambiare assolutamente i cavi che ho speso dei soldi ovviamente non vanno bene ho provato di tutto perché io non vanno bene solo questo cavo che va nella carta esterna va alla batteria perché io sono della batteria e questo cavo ovviamente l'ho pagato 12 13 euro in più gli ho aggiunto dei clips che sono questi come per dire queste qua che vanno sulla carta questi clips questi che vedete costano 100 euro 50 euro quindi inutile spendere i soldi come ha detto il tecnico dovrei comprare un amplificatore per fare il karaoke e dare il suono un amplificatore sul amazon che costerà oltre 150 euro e il più piccolo se poi dovrei scegliere un amplificatore per cui qui non ci sono le entrate per il microfono quindi ho fatto una cazzata dovrò stare attento la prossima volta allora questa è l'unica soluzione per l'informatica dovrei o prendo la carta di suono molto più costosa oppure cambio completamente l'amplificatore questo microfono è ancora buono per cui l'apparecchio lo amplifico nell'ordinatore e quando avrò questo nuovo amplificatore dovrò cambiare anche i microfoni ovviamente che questi cavi li metterò da parte e quindi sarà molto più migliore questo è tutto mi raccomando scrivete dei commenti o mandatemi un indirizzo questo è l'indirizzo che potrò fare della musica cambiando completamente tutto l'apparato informativo questo è l'indirizzo questo è l'unico modo di avere il suono in perfette condizioni dovrò cambiare se dovrò cambiare se dovrò chiamare il tecnico che viene a casa linea mi dirà sicuramente quello che mi ha detto per telefono allora arrivederci a tutti e ancora forza forza Roma